Io sfido chiunque a ritrovare una situazione analoga a quella che ha vissuto questo paese con il Presidente del Consiglio, con il padre che se la vede con i facendieri in un altro paese europeo. Ci sarebbero dimessi i rappresentanti del governo e il Presidente stesso, ma da un bel po' di tempo. Io non voglio andare come fa qualcuno a leggere le carte giudiziarie e tirare già delle somme, però ci sono delle questioni politicamente improponibili. Questi rapporti, lo dico senza vergogna, ma senza alcun problema, la storia imprenditoriale che sta alle spalle non è una storia imprenditoriale di successo, è una storia che è punteggiata di fallimenti, di società aperte, società chiuse. I successi però non finiscono con i libri in tribunale, non finiscono i successi con le indagini archiviate, tutto quello che vuoi, ma indagini per bancarotta o altre questioni, sono tutti intrecci che non vanno bene. Se stanno alle spalle del Presidente del Consiglio dei Ministri, posso dire che non mi rappresenta questo paese? Che questa è un'immagine del paese che non vorrei avere? Perché in altre nazioni una situazione del genere non è normale. Un Presidente del Consiglio dei Ministri, un ministro, un esponente del governo, come giusto che sia, deve essere specchiato. Ricordo anni fa, quando c'erano tutte le polemiche... Anche ammesso che il papà è una storia imprenditoriale travagliata, non è che quello deve incidere sul destino politico del figlio. Attenzione per una cosa, perché qui gli intrecci ovviamente funzionano nel fatto che si chiami Renzi, non sul fatto che si chiami Tiziano, che è un'altra cosa. Le due questioni si sovrappongono abbondantemente e questo non va bene. Anni fa c'erano questioni enormi legate ai conflitti di interessi e qui cosa stiamo vedendo adesso? Addirittura le cose da ritrobottega. Cioè questo mi dà fastidio perché è successo dopo anni di conclamati dichiarazioni di voler far pulizia, cambiare tutta la rinascita.